Dopo il raid vandalico all'interno della riserva naturale di Torre Guaceto si riunirà lunedì in prefettura a primis il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. È stato un ennesimo atto intimidatorio e criminale, fa sapere il presidente del consorzio di gestione dell'area, Tafaro. E siamo grati al prefetto perché l'episodio sia adesso al vaglio delle forze dell'ordine. Gli interessi personali di qualcuno non devono prevalere su quelli dell'area protetta. Sconosciuti avevano arato nei giorni scorsi un ettaro di macchia mediterranea oggetto di un intervento di recupero dell'habitat in cui trovavano rifugio e si riproducono specie protette rettili e volatili. Il consorzio, d'accordo con gli ambientalisti, sta pensando ad organizzare una manifestazione di sostegno per l'area di Torre Guaceto.